Il film d'animazione della Disney, Il Re Leone, sta tornando sul grande schermo in versione 3D. Per l'occasione il nostro Lorenzo Armando è andato a Londra ad intervistare il regista dell'omonimo musico. Ottobre è il mese del Re Leone a tutti gli effetti. Il film d'animazione del 1994, targato Walt Disney, torna infatti al cinema in una versione in 3D. Negli Stati Uniti il film si è posizionato al primo posto delle classifiche. Per quanto riguarda il teatro, inoltre il 21 ottobre l'omonimo musical sbarca a Madrid. The Lion King è uno dei musical di maggior successo della storia. Si tratta, fra l'altro, del nono spettacolo di tutti i tempi ad essere stato rappresentato a Broadway più a lungo. Lo spettacolo ha debuttato nel 1997 nel Minnesota e si è poi spostato a Broadway e in Europa. A Londra il musical è in scena a Lissian Theatre, dove ha debuttato il 19 ottobre 1999. Noi siamo stati a Londra e abbiamo incontrato il regista della versione inglese, Rabalion. Per me è un dono, perché non ci sono molti filmi nel mondo che portano tutte queste idee in un film. Ci sono molti effetti tecniche, diversi caratteri e anche una storia bellissima del suo padre e il suo figlio. La storia è in tutto il mondo, in America, in Japan, in Australia, in Germania, in Francia, ora in Madrid, in Spagna, in England. Lo che è incredibile con questo è la storia. E per me è una cosa che tutti possono capire, ovunque, la famiglia, il respeto, la responsabilità. Questo è magari perché il film è così successo in tutto il mondo, perché tutti possono capire questo. La musica è così bella, il costumino è incredibile, il set è incredibile. Il film è solo basato su dettagli. Non puoi immaginare quanti dettagli che rendono il show così speciale. E questo è il momento, tutti questi dettagli che rendono il show così uniquee. E anche come un direttore, io sono sempre sorpreso. Puoi essere sorpreso per le luci, potre dei dettagli dei costumi, potre dei movimenti di uno dei set. Per me è sempre un piacere di essere qui. Il film è aperto in Madrid in ottobre. E si arriva in teatro. Si, si, è vero. E siamo molto felici che la spagna è lanciata in ottobre. E noi vi vogliono molti successi. Io ero qui per Cast In, e io ero molto felice di vedere che più di 5,000 persone vogliono essere in il show. E apprendere il show. La musica è una cosa che tutti possono apprezzare, anche come audience, ma anche come performance. e questo è un show molto respetivo. Come and join us, and spend a wonderful night with us. And I would like to thank all the viewers watching this TV program. Spectacolo che dei spectacoli. Well done and ciao a tutti. Bye more NOW Ciao Grazie a tutti.